tanti auguri a te, ciao patatona, ciao patatona, auguri, guarda Simo cosa ti ha fatto, cos'è, cos'è Mati, cos'è amore la scuola di contento, cos'è, 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 cos'è. Ma che bella mia moglie! Grazie a tutti molto, con un tiroio bene e grazie per essere qua con me in questo giorno speciale. Grazie a tutti!